buongiorno amici allora come ho detto l'altra volta adesso vi faccio vedere come si cambia il medico di famiglia medico generico questo è il mio nuovo profilo perché l'altro profilo mi è stato bloccato che stanno più di 8 mila follower è stato bloccato e sto ricominciando da zero e chi vuole ancora seguirmi lo può fare su questo profilo ok adesso vi faccio vedere passo passo come si fa a cambiare il medico generico medico di famiglia ok seguitemi allora per prima cosa dovete collegarvi su questo sito sinfonia punto regione campania regione punto campania punto it collegate su qua poi dovete fare l'accesso accedi entra con speed entra col vostro con la vostra registrazione gioco posti italiane ok e qua bisogna entrare o con ball god o con il vostro speed va bene così è chiaro fino adesso ok adesso andiamo e vi faccio vedere una volta entrati acconcento e andrà su questa pagina la mia registrazione date giù e qua scelta o revoca del vostro medico qua già ci sono i dati del vostro medico che sono i dati del vostro medico io ho di michele de francis qua potete scaricare anche il vostro libretto sanitario in formato pdf andate su scelta del medico se avete già un nome del medico che volete inserire inserite qua il vostro nome del medico comune di caivano solo di caivano ed ecco qua tutta la lista dei medici di caivano ok ci sono da quanto tempo la strada che vi fa piacere di trovare un medico più vicino a casa vostra basta inserire quale medico volete assegnarvi e il gioco è fatto ok basta fare applica e avete cambiato il medico come vedete ci sono i nomi di tutti medici ok trovare pagine dove vedere i medici questi che vedete meno schiariti vuol dire che non sono più disponibili ok qua sarete di tutti i medici altrimenti potete potete cambiare anche per pediatra è una libera scelta praticamente come cosa vi serve basta selezionare il pediatra si applica e si vede tutti i medici pediatri di caivano ok va bene al prossimo video grazie ecco questo è tutto il video penso di essere stato abbastanza chiaro per altri video ci vediamo la prossima volta qua potete trovare tutto sul libio sulla regione campania varie cose un po' all'olta metto un po' tutto e poi trovate anche delle scene dei film più interessanti divertenti un po' di tutto ok grazie per chi vuole continuare a seguire